Ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché oggi è martedì quindi cosa succede il martedì esce un video delle make up angels quindi un video che riguarda me fabiana elisabetta per questa settimana fabiana ha deciso di farvi vedere e di farvi conoscere per chi non li conosce alcune matite nere e mascara quindi per questa settimana parleremo di matite nere e mascara quindi di occhi occhi profondi occhi con lo sguardo penetrante quelli allora mi scuso per mi sento un po nervosa perché un bel po che non giro video voi li vedete ogni due giorni li vedete il martedì il giovedì e il sabato e il martedì lo giro super giù il giorno prima e invece gli altri sono quelli già registrati in precedenza quindi non ho ancora registrato video nuovi ma ci saranno a brevi alcuni video veniamo al video allora vi volevo far parlare vi volevo parlare di alcune matite nere sapete tutti che non con i sansara è passata una sansara io la porto chiusa questo è il periodo che a me tanto non piace perché avete visto ora mi monte comunque andiamo al video vi stavo dicendo io ho un piccolo problema con le matite nere allora prima mi duravano dentro l'occhio da quando da due tre anni a qua da quando ho avuto per la seconda volta la trombosi la matita dentro l'occhio non mi dura ora non lo so se è riferito alla trombosi che ho avuto quindi ho sempre diciamo l'occhio che è un pochettino proprio poco ce l'ho umido quindi mi lacrima o che ho finito la matita nera che usavo in precedenza che era la matita della marca Luna se non mi sbaglio posso rincretenire tranquilla al cento per cento che mi stanno niscenissi e quindi può essere anche quella matita che utilizzavo e mi durava tantissimo ho provato varie matite ho provato le matite che mi aveva consigliato Fabiana che lei si ci trova benissimo ho provato Kajal ho provato anche l'eyeliner nero perché mi hanno detto l'eyeliner nero dura tantissimo non si toglie si è tolto allora si toglie piano non è una cosa che boom ma alcune matite cioè il tempo di da qui arrivare a casa di mia mamma che ci sono tipo un 600 metri si toglie si toglie io vi faccio vedere alcune matite perché io ne ho tantissime e adesso ve le faccio vedere che sono queste qua queste sono tutte le matite nere più quelle che adesso vi faccio vedere sono tante perché io ne compro tantissime perché voglio trovare di nuovo la mia matita nera che mi scrive all'interno dell'occhio per quanto riguarda la scrivenza sono tutte buone mi piacciono tutte anche il Kajal che adesso vi faccio vedere come scrivenza sono buone alcune sono morbide alcune sono leggermente più dure l'unica cosa che credo che sia un difetto per quanto mi riguarda è che non mi durano all'interno dell'occhio quindi solo una se non mi sbaglio solo una non ho provato a utilizzarla normale infatti devo fare un test ma tutte le altre le ho provate messe a casa di mia mamma sono ritornata ovviamente non è che a casa mia mamma mi curvo allo specchio sono ritornata a casa dopo il caffè quindi massimo che ci sto due ore così a casa mia mamma non c'era non c'era o perlomeno c'era un tratto all'inizio poi non c'era più quindi a me così non piace allora iniziamo vi faccio vedere quello che ho messo sotto l'occhio oggi è il Kajal di Shaka questo l'ho preso all'UVS a Catania come scrivenza è ottima io lo utilizzo per sporcare le ciglia inferiori e metterlo all'interno dell'occhio vedete sembra che è duro l'ho messo due secondi fa appena finisco il video è capace che se è andato comunque il colore è questo non è un nero 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 però mi piace mi piace l'effetto che ha e ovviamente io lo metto sfumato perché mi piace che si sporca anche la parte di sotto non so voi ma a me piace poi altri che vi faccio vedere sono quelli che ho utilizzato di più in assoluto è questo qui di Wicon che è la matita è la matita long lasting questa qui vedete la più piccola adesso vi faccio vedere vabbè che le altre sono quelle sono quelle come si dice retraibili allora queste matite di Wicon mi piacciono Fabiana me le ha consigliate io le ho prese sia questa gel eyeliner sia la matita normale matita occhi la numero 12 queste me le ha consigliate Fabiana mi ha detto sono ottime eccetera eccetera utilizzala con all'interno cioè picchiettando l'ombretto nero mi dura qualche cosa mi dura ma per questo vi dico che è un problema mio perché lei si trova benissimo con queste matite io invece cioè al ritorno sei andata con tutto l'ombretto nero di sopra quindi credo che sia un difetto dei miei occhi quindi questo è un come si dice è un un'opinione personale quindi non prendete che sono le migliori cioè che io non mi ci trovo bene quindi non li comprate io sto parlando per la mia tipologia di occhio quindi forse il fatto che mi lacrime non mi dura le altre che vi faccio vedere perché una ancora l'ho utilizzata con ecco questa qui allora le altre due sono una della Maybelline che dicono tutti che è ottima che dicono che è ottima e tutta è della Maybelline New York e della Kryon 100 ed è questa il nero mi piace però non è abbastanza scuro la scrivenza è ottima e questo è il colore devo dire che è ottima come matita se dovete fare se dovete fare una riga di liner però se la dovete utilizzare dentro l'occhio no però per quanto riguarda la riga di liner tutto io ve li consiglio perché io faccio la riga di liner ma non faccio la codina perché non la so fare l'ultima arrivata no la penultima arrivata è questa qui della Make Up For Ever ed è la Aqua XL che devo dire è ottima è quella che mi è durata di più di tutte però dentro l'occhio non mi dura ma mi piace tantissimo il nero perché è bello scuro è bello vibrante e mi piace tantissimo proprio questa tipologia di nero scuro però tipo lucido e mi piace molto la matita che ho utilizzato con l'ombretto di sopra è questa qui della Nabla la Velvet Line e mi è durata di più con l'ombretto però ovviamente come vi ho detto poco fa devo fare il test nel metterla senza l'ombretto di sopra devo dire che mi è piaciuta infatti sono rimasto sono rimasto sì sono diventato un maschio sono rimasta molto colpita di questa sono rimasta molto colpita di questa matita perché mi piace il nero che è simile a quella di Make Up For Ever e la cosa che vi dico per questo dico che è una cosa per quanto riguarda i miei occhi perché quando faccio gli swatch per vedere la matita che io voglio mettere eccetera eccetera hanno difficoltà a togliersi quindi sia quella XL che questa qui di Nabla quindi le matite sono buone sono io che sono difettosa e quindi devo dire che è un problema mio e non di ora l'ultima matita per quanto riguarda gli occhi che vi faccio vedere è la mia preferita questa io la utilizzo tutte le volte che faccio quei trucchi di quel colore che è brutto che non lo utilizza nessuno sapete quel malva non so se ho parlato mai di questo colore nei miei video non lo so credo di no di non aver mai parlato del colore malva belli i miei capelli e niente quando faccio dei trucchi tipo sul malva sul rosa tipo quei trucchi belli particolari io utilizzo questa matita ovviamente adesso il packaging è cambiato però è sempre questa tipologia di matita è della essence ed è la 07 plum cake è una long lasting e io la utilizzo sempre ovviamente all'interno dell'occhio quando faccio questa tipologia di trucco è bellissima 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 ed è questa utilizzandola dentro l'occhio quando fate dei trucchi sul rosa oppure tipo sul malva scuro borgogna e questa matita all'interno è la fine del mondo mi piace tantissimo mi piace proprio l'effetto che ha sui miei occhi sembra che l'iride dell'occhio si noti di più tipo che come se tipo come se tirasse fuori il verde perché io ho un po' di verde dentro l'occhio mischiato con il marroncino e quindi con questa matita sembra che risalti di più il verde e quindi è una cosa che mi piace tantissimo veramente tanto 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 e quindi questa veramente ve la consiglio in assoluto perché questa mi dura questa mi dura mi dura per quanto riguarda le matite abbiamo finito se notate qualcosa di differente per quanto riguarda il make up è una cacata nel senso che l'ho fatto veloce veloce solo per fare il video per darmi una rinfrescata per farvi capire che sono umana e quindi ho messo così l'ombretto questo qui della Maybelline color tattoo quindi l'ho messo veloce veloce ma volevo farvi notare le mie sopracciglia allora sapete tutti se vedete qualcosa di strano è perché ancora la mia estetista non ha aperto quindi queste sono le sopracciglia per adesso che posseggo ma volevo visto che parliamo di mascara volevo farvi vedere un mascara che è questo qui questo è il mascara per quanto riguarda la ricrescita dei capelli sapete tutti che io dall'età di 18 anni ho iniziato ad avere i capelli bianchi quella è una cosa di famiglia e quindi certe volte raccoglievo i capelli oppure dipende mettevo il cerchetto così e si vedeva tutta la ricrescita tipo come ce l'ho adesso da ambedui lati io ho una crescita per quanto riguarda i capelli esagerata quindi in un paio di settimane già io ho la ricrescita e devo fare tipo il colore per non farlo spesso ho comprato questo che è il mascara per quanto riguarda la come si dice l'attaccatura dei capelli non l'ho mai utilizzato mai assolutamente e sinceramente non non trovavo non trovavo quella cosa di mettermi là no perché se vedevo i capelli bianchi subito mi faceva il colore quindi cosa ho fatto ho cercato di sistemare le sopracciglia direttamente con il mascara e devo dire che mi è piaciuto l'effetto vedete sono un pochettino colorata perché c'è Fabiana che mi sta tartassando la dico pulita la frase dicendomi che il make up mi verrebbe più particolare e più bello se faccio delle sopracciglia definite essendo che io non le so fare con il penpotto con la matita eccetera eccetera sto iniziando a disegnarle a passargli il mascara così per definirle un pochettino infatti se vedete sono leggermente più definite vi prometto che imparerò perché devo imparare devo fare le sopracciglia più particolari quindi imparerò ma nel frangente visto che parlavamo di mascara vi faccio vedere questo è ottimo allora vi faccio vedere i miei mascara preferiti ce l'ho tutti qua ops allora il mio mascara preferito in assoluto che se potevo lo ricompravo ma l'azienda non esiste più è questo qui della just cosmetics io avevo collaborato con questa azienda avevo preso questo è il blush che era l'amore della mia vita che era color e quindi mi avevano mandato questo mascara io adoro 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 scovolino e questo questo è lo scovolino io adoro questa tipologia di scovolino perché io ho delle ciglia abbastanza lunghe li piegavo con il piegaciglia mettevo questo mascara e ragazzi si incurvavano che era una bellezza cioè le curve proprio delle siciliane sugli occhi cioè avevo proprio bellissimo quella sensazione stupenda delle ciglia incurvate era fantastico veramente fantastico purtroppo non non lo fanno più e quindi non ho potuto più acquistare questo mascara il prossimo mascara che vi faccio vedere è il better than the sex questo qui better than the sex better than the sex non lo so dire della too faced ed è molto molto bello devo dire che mi è piaciuto non equivale questo però devo dire che il suo lavoro lo fa egregiamente e mi è piaciuto anche questo questo l'ho finito quindi amen questo scovolino questo scovolino io direi che proprio è l'ideale per quanto riguarda i miei occhi mi piace perché li separa e li incurva non è proprio allo stesso livello però devo dire che è ottimo poi faccio veloce perché non vi voglio fare un video abbastanza lungo il mio mascara preferito per quanto riguarda la essence che io ho utilizzato quindi tutti i vari mascare che ho utilizzato è questo ed è la love extreme non lo apro perché questo è stato uno degli ultimi mascara che avevo acquistato perché quando lo vedi non mi ricordo credo di averlo comprato nel sito perché uno glielo avevo dato a mia sorella che lei lo cercava e quindi glielo avevo preso e uno l'ho preso per me questo mi piace se trovo una foto ve la metto però sicuramente questo l'avrete già visto in altri video essendo sigillato non lo voglio aprire perché ancora sto utilizzando io di solito non apro tanti mascare io ne apro uno alla volta perché non è io una sola sono e quindi mi secca che si rovina il mascara questo è un volume mascara e devo dire che è stato uno dei primi mascare che ho comprato dell'essence ed è uno dei primi mascare che mi è piaciuto tantissimo io non trovo mai difetti per quanto riguarda il mascara dell'essence però questo era il mio preferito in assoluto che provandolo anche mia sorella l'ha voluto prendere anche lei poi vi faccio vedere gli ultimi due mascare che sono quelli che io sto utilizzando tantissimo in questo periodo e sono questi qua ovviamente della essence questo è fantastico infatti ne ho altri due e già l'avete visto in qualche video perché ho parlato proprio dei prodotti che adoro in assoluto ed è il volume Buster che è un primer per quanto riguarda è un primer bianco ovviamente per quanto riguarda la incurvatura delle ciglia quindi per dare il volume è ottimo io metto questo il tempo di fare l'altro occhio e metto il mascara devo dire che l'effetto mi piace tantissimo l'avete già notato in altri video perché mi avete scritto nei commenti che mascara avevo e si nota tantissimo proprio l'effetto infatti io adoro tantissimo quando l'ho preso la prima volta subito sono andata a comprare altre due non so se lo dovevano togliere tutto però siccome sappiamo in senso come come fa diciamo questi ragionamenti quindi l'ho voluto prendere subito e amene il mascara che sto utilizzando in questo periodo è questo qui è della You Better Work ed è il mascara che mi vedete utilizzare sempre in questo periodo ed è il mascara che mi sta piacendo mi sta piacendo perché anche questo ha uno scovolino queste ha le setole in silicone ed è abbastanza morbido e devo dire che mi piace me le incurva belle le ciglia e non ha niente di che ah è waterproof questo no ma a me non interessa se è waterproof o altro a me i mascare durano io lo metto anche così tipo metto il mascara e me ne vado tipo burro cacao mascare e me ne vado da mia mamma sono così il mascara mi piace una volta l'ho dimenticato mi sono truccata e forse avevo fatto anche il video mi sono truccata e sono uscita e la mia amica mi fa ma tu hai qualcosa di diverso negli occhi gli ho detto che c'ho mi fa c'è qualcosa di diverso quindi ho preso lo specchietto e ho guardato il mascara hai dimenticato il mascara mi fa e mi è capitato mi è capitato di dimenticare il mascara strano ma vero per me è difficile perché lo metto sempre dappertutto però mi è capitato e questo devo dire che è un ottimo mascara perlomeno mi sta dando delle soddisfazioni mi piace invece l'altro che forse è qui dove è l'altra mascara questo qua l'altro mascara della essence che sarebbe questo non mi dice niente e anche ha lo scovolino che mi piace questo è lo scovolino ma sinceramente non 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 mi dà lo stesso effetto che mi dà questo quindi preferisco utilizzare questo che è questo qua quindi spesso mi capita di se faccio un trucco veloce tipo come adesso lo utilizzo vabbè oggi ho utilizzato questo però stavo dicendo se mi capita di fare un trucco veloce tipo come adesso utilizzo questo qui così lo finisco ma sinceramente non mi sta dando soddisfazioni come me lo do a questo quindi ho finito ho finito allora questo è tutto quello che riguarda per me matite e mascara ovviamente andate subito ma dico subito a vedere i video di Fabiana ed Elisabetta perché loro ne sanno molto di più di me per quanto riguarda matite e mascara perché loro sono molto più esperte si truccano da tanti anni anche se diciamo io sono nel mezzo come età ma loro sono molto molto avanti per quanto mi riguarda niente ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto ditemi quale è il vostro mascara o matita preferita e se avete dei consigli per quanto riguarda la matita all'interno dell'occhio per farmela durare di più per quanto riguarda questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e vi raccomando per quanto riguarda le Makeups Angels noi ci vediamo il prossimo martedì ma per quanto riguarda Stefania Di Bernardo noi ci vediamo giovedì e sabato ricordatevelo vi raccomando che vi interrogo allora per quanto riguarda la mia il mio video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao